Buone nuove a San Marco d'Alunzio per la stabilizzazione dei precari e l'avvio del nuovo strumento urbanistico. Riguardo al primo punto, il sindaco Filippo Miracola, con proprio atto, ha deciso di nominare la commissione esaminatrice deputata alla formulazione della graduatoria di merito sulla procedura selettiva per titoli e colloquio, riservata a 24 dipendenti comunali ASU. La commissione risulta così composta, presidente e il segretario comunale Gabriele Pino, e poi componenti il responsabile dell'area economico-finanziaria Grazia Catena Curasi, il responsabile dell'area amministrativa Maria Teresa Rabbone, il responsabile dell'area lavori pubblici Suap Patrimonio Corrado Galati Casimiro e il responsabile dell'area urbanistica ed edilizia, manutenzione e servizi ambientali Calogelino Giacomo Indriolo. La procedura selettiva avverterà come detto su titoli e colloquio. Riguardo allo strumento urbanistico, l'esecutivo con affidamento diretto ha deliberato di procedere alla redazione del piano urbanistico generale, affidandosi al professore Andrea Marcel Pidalà. Il procedimento di formazione del piano urbanistico comunale riguarda anche lo studio di compatibilità idraulica, lo studio demografico e socio-economico, lo studio archeologico, la valutazione ambientale strategica, lo studio agricolo forestale e lo studio geologico.